Quella di oggi è la giornata mondiale della donna e all'alberghiero De Cecco di Pescara c'è un'iniziativa organizzata proprio dall'istituto che lei presiede, professoressa, si parla di imprenditorialità al femminile. Sì, abbiamo voluto ricordare questa data simbolo che è l'8 marzo, parlando soprattutto di divario di genere nell'economia, nel sociale, nel mondo del lavoro. Partiamo da una riflessione di fondo che ha tanti processi che sono incontrovertibili di emancipazione femminile, non ancora corrisposto però in modo equivalente un cambiamento reale della visione delle donne sul piano culturale. E allora permane un profondo divario di genere, per esempio nel mondo del lavoro, dove noi auspichiamo una maggiore inclusione delle donne, una maggiore presenza nei ruoghi anche decisionali, istituzionali e apicali. E di conseguenza fare impresa, parlare dell'impresa femminile diventa uno degli strumenti proprio per raggiungere la parità di genere. Per questo abbiamo organizzato un evento in collaborazione, un momento di incontro, diciamo di dialogo con gli studenti, in collaborazione con un'associazione femminile, la FIDAPA Pescara, che si occupa di empowerment, di promuovere l'empowerment femminile, e con l'associazione Ananche, con cui noi condividiamo dei momenti di formazione al rispetto delle persone e all'espressione del sé. Oggi al Dececco si parla di imprenditoria al femminile. Quanti passi avanti sono stati fatti in tal senso e quanto c'è ancora da fare? Credo che tutto il mondo si stia muovendo in questo senso ormai. È un passaggio culturale necessario che ha preso ormai quota in tutti i stati, in tutte le situazioni, in tutte le classi, in tutte le materie, in tutte le industrie, in tutte le aziende, in tutte le famiglie. È un cambiamento culturale, epocale che stiamo vivendo. Lo vediamo nei paesi dove c'è la guerra, no? Vediamo le donne che si fanno carico dei figli, del lavoro, che portano via le loro situazioni, che sono a fianco dei loro uomini. Credo che sia arrivato il momento di non parlare più della festa della donna o della festa dell'uomo. Credo che sia arrivato il momento in cui si parli di l'uomo e la donna che conducono la vita e che cercano di allevare dei figli, di produrre, di portare delle economie a livelli di soddisfazione. Non più tutta questa divisione di genere, cioè non ne parliamo più perché forse il fatto stesso di continuare a parlarne genera comunque un senso di diversità che non c'è, che di fatto non c'è.